Era un principio che è scritto nei trattati e che non è stato applicato sempre, ovvero il principio di sussidiarietà. Non si occupi Bruxelles di quello di cui si può meglio occupare Roma e non faccia Roma da sola quello per cui serve Bruxelles. Ma non è esattamente quello che è stato fatto ed è la ragione per la quale oggi servono e sono contenta di questo cambio di passo, sono fiera di tentare di dare una mano in questo senso, è cambiato l'approccio. Sulla immigrazione, onorevole Rosato richiama alla sobrietà. Io ho usato nel mio intervento di oggi toni estremamente sobri, a meno che lei non si riferisca agli scafisti, perché con quelle non ritengo che servano, diciamo, toni sobri. Mentre sul MES, così approfitto, partendo dal primo che ne ha parlato, che è appunto l'onorevole Rosato, ma poi è stato citato da altri. Guardate, io nel merito non ho cambiato idea sul tema del MES, ma quello che vi ho chiesto stamattina e quello che vi ho posto stamattina non è un tema di merito, è un tema di metodo. è capire se questo sia il momento, ma non per me, per questo Parlamento, che è chiamato, perché questo è il suo ruolo, a difendere l'interesse nazionale italiano, se questo sia il momento per discutere questa materia. Questa è la questione che vi pongo, indipendentemente da quello che si può pensare, cioè ha senso che noi, diciamo, procediamo a una ratifica senza conoscere quale sia il contesto. Questo è, non è tattica, non è, guardi, io sono una persona che è sempre stata abituata ad assumersi le sue responsabilità, ok? E questo farò anche in questo senso e anche in questo caso. Ma voglio cercare, come sempre, di difendere al meglio possibile l'interesse nazionale italiano. E io vi dico, dico a tutto il Parlamento, che discutere adesso questo provvedimento non è nell'interesse nazionale italiano. Questa è la questione che ho posto, dopodiché ognuno farà le proprie scelte e ognuno se ne assumerà la responsabilità.